La tigre del farweb che gioca a minecraft con quel volume che c'è Luke 4316 Ciao a tutti ragazzi sono Luke e sono in compagnia di Xander, Chip, Ulisse e Joe Ciao a tutti ragazzuoli Benvenuti in un nuovo episodio della Gradient Sky Oggi faremo qualche quest Allora apriamo il libro Abbiamo da finire da completare da prima Per cui... Avevamo già completato ma... Col nuovo aggiornamento hanno aggiunto le quest Da powering up che dobbiamo fare una steam dynamo Che è semplicissima Vediamo 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 Allora si fa la steam dynamo Si fa... Un aiuto copper Sì Copper è un reston Ok io faccio il fondo Il coil Sei brutto cattivo Abbiamo il resto? Siamo il copper Sì Ho preso abbastanza Spero basti È silver questo Siamo Sì sì Anche comunque l'altro Raga però facciamo Facciamo tutto in una fornaccia Sto facendo tutto qui Ok possiamo non fare confusione come al solito Qui sto facendo il gear Servono due gear Vai prendilo Eh che me ne faccio io vai Eh io dove ti scadapilla Mi metti nella croi Un silver Da qui Silver Fatto qui tanto questa crap Che è sta roba? Che è sta roba? Sto facendo? È la dynamo Non si fa così? No Ma che stai combinando? Xander Sì si mancano i due gear Non si fa così? No È i due gear? Sì È andato Andiamo alle cesto C'è la bozzetta ragazzi Mezzo cuore e borsetta Borsetta La bozzetta Ah ma l'ultima L'attivata comunque L'attivata quindi Allora Cosiamo in coria Le bamboline del calcio Mamma mia Il chicken jerky Che schifo Ma cosa è che non Una spada Tipo Dimmi mi mangi sui cuori Ok Mi ha tratto questi A bei soliti Per ilito misto Vado a posare Allora ragazzi Spieghiamo cos'è sta Stainamo stacca Vabbè Alla fine ragazzi In generatore di corrente Dai Poi lo vedremo Quando lo useremo Allora Andiamo con la prossima Quest Vai Allora dobbiamo fare 100% questa Pulverizer Eh l'abbiamo fatto Ragazzi 100% Completata Basta finite Oh gg Non mi fa claimare reward Ah abbiamo finito tutto Tutto completato Ah ma Ci vuole tanto a capirlo Ok Minchio Eh Ebbene No perché ragazzi Prima di registrare Sono stato quattro giorni A dire ragazzi Fare solamente quella quest Vuol dire tre secondi di video No ma ce la fare Ok Ok E mi fa detto Nel mentre Puto i pulverizer Che dirò Ho scordato L'inventario Ulisse Ti sentiamo a tratti di merda Proprio Quindi papale papale Ecco Buttali Ok Ok butto i pulverizer Che avevo Butta anche il microfono Quando vuoi Poi Vai lancia Perché è un fastidio Sentirti in questo modo Io ho già di pulverizer Vai ragazzi Andiamo a montere questa Andiamo a fare la steel power Vediamo Così cominciamo a fare Un po' di steel Ingot Bisogna fare lo Reworking With your screen duck Eh Quello Ok Allora Steel Libro bianco Libro giallo Aspetta Come si fa Lo steel 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 Key to key Si fa Dentro la liquid table casting Dobbiamo mettere un libro Nella Nel tavolino Abbiamo un libro Esatto Eh Sì 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 Ma voglio Dovremmo Un material Send qualcosa Ah ma non necessariamente Quello Anche un libro normale Ecco No Questo è incantato Eh Eh ragazzi Basta farlo Luque Ho il seme di erba Anche Ah Allora facciamo dopo Facciamo dopo Ah è vero Facciamo questa cosa Prendi il seme di erba E poi facciamo quello Preso Il libro Stiamo cercando Lo stiamo Anzi O craftiamo raga Infatti fai prima Andiamo alla felle Filo filo ragazzi Ehm Filo Aspetta Aspetta Qua ci sta Delle pagine Sto facciando Altrimenti C'è matica Non si legge Belle fogli Siamo ragazzi Ok Vabbè Abbiamo il material End you Dai Usiamo questo Il libro Ah si dai No L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Ma che panna Ce la vede Ce la vede Dove sei tu Alla forneria Forneria Ascioglieria Ascioglieria Mi hanno messo Le shared brick Dentro Alla smelter Io lo sta Lo sta sciogliendo Perché Perché ci serve Che il liquido Poi venga Fatto uscire Dalla fornace Finisca sul libro Questo qui E ci darà Lo steelwork Allora basta Basta dire che serve Il liquido Di questi blocchi Della fornace Della tinker Allora bastava C'era tanto A spiegarlo Agiteli Testa vostra Senza dire niente Agli altri Io sono messo Il blocco Allora Io ad esempio Non sapevo Che cosa facciamo Anche Mamma mia Siete quattro Pannocchie Siete Veramente Quattro pannocchie Alla braccia No perché Secondo Secondo loro Minecraft È tutto scontato Non sanno Che c'è gente Che l'ha scoperto Ieri sera Minecraft No Non è uno scherzo Ragazzi Non è uno scherzo Io odio fare le cose Senza spiegarle Ti muovi però Ok A me serve cibo Raga È una cesta Piena di cibo Esatto Non riesco a correre Ancora ce ne vuole qui Ti muovi Ti muovi Mi spacco tutti i vetri Adesso Così La cattiveria Dai che Dobbiamo andare in live Ragazzi Vi ricordiamo Che tra un po' Andremo in live Con la schifocraft Per cui Veramente Tutti in live C'è il link in descrizione Cliccatelo 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 Passato dall'amico Che l'amico chiama il nonno Vai Finito L'amico chiama il nonno Sembra Sembra un Ma la zia perché no Dai pure la zia Ha finito È quasi finito Tre Quasi Quasi Uno Vai Tre Due Uno vai Tre Vai Niente proprio Tre Tre Due Uno Vai Tre Due Tre Due Uno Vai Vediamo Che succede Ecco È diventato Tipo la fine Che cacchio Di libro Perché Il libro Per fare La fornaccia Efficiente Ok Abbiamo il libro Completiamo la questica Completiamo la questica Manuel Swindrick Già prendiamo C'era L'orio 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 Uno Uno Prende al grave Tutti gli altri L'orio Ragazzi abbiamo anche lo zaino vi ricordo Andiamo Ah è vero anche Ha ragione Ecco adesso ci ha dato Oh my god Oh my god Oh my god Fermi tutti Fermi tutti Ok Vai Non diri all'inferno Quanta roba Oh my god Eh vabbè Eh vabbè Mo Allora Ho anche di bricca Ah Ma ci da tutti quanti Anche lo still working Sì Allora questi qua Ragazzi Datemi tutti i bricca Ci serviranno Per completare La fornaccia Credo Sì Allora io devo aprire Ancora lo zainetto Ok ragazzi Ok Ok Vi ho fatto queste due cose Ora io direi Affanculo Affanbagno Fish Jerry Schifo Ah è qui La fornaccia Quella strambica 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 Ragazzi ci serve Un yellow room dust Me lo date grazie Eh qua nella cesta Me ne serve uno Faccio submit E completo la quest Ah Ok Ora ci serve Un graffiti bar Ce l'abbiamo sopra L'abbiamo Qua 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 Ma come si fa Il graffiti bar Il carbone Nella formace Ah normale Quindi Per cui semplicissima Questa quest Ragazzi Scegliete sotto Allora Yellow room dust Il plutonium Ah no Allora aspetta 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 Quanti siamo Aspetta Quanti siamo Siamo in 4 Siamo in 4 Eh l'uranio Allora 2 2 Eh ci servono per big Ragazzi il rutile E il nether Uranium No Eh l'uranio La rutile Non ci serve Per niente L'uranio Non so Dobbiamo far Centrare nucleare Qualcosa del genere Vai prendiamo Allora io prendo Plutonium Plutonium Io prendo Plutonium E due Prendono Glutonium Dai Ok Chi è che prende Io la polverina Vai venite qua Mettete via il cuore Tutto il resto Chiesto cosa giallo Il cuore che si mangia Non so Che si aggiunge Per cui Ognuno so Aggiunge per sé Ah no Non si aggiunge Sì Io l'ho aggiunto Di premio Shift Shift destro Shift destro Non va No Lu Senti una cosa Premi Il secondo inventario Ah ma di metto La posto del cuore A cagare Diciamo Il corincio Automatica Sarà la versione Ma che cosa fa Cosa fa Ti aggiunge un cuore extra Infatti Ti diventa Arancione E' vero E' vero Ancora Mangiamo Mangiamo Abbiamo 95 vite Ragazzi Ci ha preso Inetto Dai Pronti Pronti 3 Apro 1 Go No Cosa Cosa Guardate Dentro Chest Guardate 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 Stanche Le forbici Un libro Ah break in 3 Mamma mia Mamma mia Cipo Allora Questa così Ragazzi Ragazzi La prossima Questa invece La fare Tutti i macchinari Avanzati No Io chiederei Facciamoci La reactor Warp Bravora Prima di fare quella lì Possiamo farci La fornace Gravanda La big reactor È vero Sander La facciamo subito La impariamo Poi facciamo La calata Dai Da quanto Stiamo registrando 14 minuti Da quanto Da quanto 13 Ragazzi Allora Vedremo Tutto questo Nel prossimo Episodio Un bacione Un abbraccio Commentate Condividete Pollici in su Ciao a tutti Mi raccomando Vi aspettiamo In live In live